Salve. Salve. Che rivedi? Non è la forma. Sì. Stai facendo? Sì. Se ti non ha pasta con portette, singola con portette, beh. Ok. M'hai fatta partire? Sì, senti andando. Salve. Mamma mia. Buongiorno. Ragazzi, notarla senza frutto, eh. Qua abbiamo le nostre polpettine, anche carini. Polpettine e polpettine. Poi li buttiamo sulla pasta. Non si manca. Allora, ragazzi, come vi avevo detto nei messaggi in privato e nella live, la mia roba, vi presento qua di nuovo il mio mostriciatolo. Guardatelo. E tutti qui. Allora, fatti vedere amore. Ecco, lei mi bacia sempre. Allora, ragazzi. Lei è il cane con la parabola. Shimu shimu. E' strano strano. Ciao. Ciao. Un bacio. Vi ha dato un bacio. Allora, ragazzi, come potete notare, questa sottospecie qua di parabola. Io la chiamo parabola. In quanto, poverina, è stata operata. Aspetta che ve la faccio vedere meglio. In quanto è stata operata da un piccolo tumore. e per fortuna l'intervento è andato bene. Lei appena si è ripresa dall'anestesia e si è svegliata. Viena amore, ti sei svegliata. e mi vuoi assoluto. Ti vuoi vedere, tu. Ti vuoi buono. Ti vuoi buono. Ti vuoi buono. Voglio buon e ti vuoi ti vuoi bene. Ti vuoi vedere. Non mettere il colino. E.. Tutto. Tutto. Saluta i fan. Ciao fan. Dove vai? Stavo dicendo in quanto si è ripresa subito, l'intervento è andato a buon fine, siamo strafelici giustamente, gliel'abbiamo scoperto per chi non sa ancora, aveva una pallina qua tra l'orecchio e la macella, il musino, e all'inizio pensavamo fosse una semplice ciste, poi andando a fare un esame dal veterinario gli è stato diagnosticato un piccolo tumore, abbiamo fissato l'appuntamento e tutto, l'operazione è andata a buon fine, hanno estratto questo piccolo tumore e stiamo aspettando i risultati per sapere se è benigno o maligno, quindi volevamo informare i nostri piccoli fan che ci seguono e che si sono preoccupati quando l'abbiamo annunciato che il canno sta bene, va tutto bene, detto questo vi auguriamo un buon lunedì perché sto registrando di domenica ma uscirà il video di lunedì e lo vedrete lunedì, qua c'è un animale allo strano, con la pasta, con la pasta che sta cucinando, poi volevamo, vi lasceremo il link in descrizione se potevate passare, ci sta chiedendo questo piccolo favore se potevamo sponsorizzarlo, si chiama Kevin Gennaro, con la K se lo scrivete e poi vi lascio la descrizione, ho detto ciò, non fateci caso i nostri capelli, quant'altro siamo semplicemente fuori video di live e quant'altro, non è nulla programmato come notari, guardate qua la mia pancetta, che bella, infatti è diventata grande l'orso, orso Yogi, qua abbiamo Bubu, vi auguriamo una buona giornata e ci vediamo alla prossima ragazzi, un bacione, ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti